Ma forse questo me l'ho già detto un po' troppo, però effettivamente i giocatori con le mie caratteristiche adesso sono un po' di meno. Io cerco di essere l'equilibratore della squadra, cerco di mettere sempre quella pezza dove un mio compagno non c'è e questi tipi di ruolo sono quasi scomparsi. Io cerco sempre di dare il massimo, quest'oggi è andata bene, abbiamo fatto un'ottima partita affrontando una squadra di spessore composta da giocatori importanti. Abbiamo sofferto in alcuni fraggenti ma avete visto la partita, potevamo fargli ancora più male. Alessandro, cosa hai provato al momento della sostituzione? Tutto lo stadio in piedi per applaudirti, un pizzico di emozione. Davvero una prova sontuosa la tua oggi. Ma sono contento perché io sempre con il lavoro ho dato la dimostrazione di essere un professionista, di stare in campo sempre nella maniera giusta, ho lasciato sempre il tempo che trovano, i fischi, ho sempre lavorato con grande dedizione, io ho sempre dato tutto per la maglia del Pescara, voi lo sapete anche dal primo giorno che sono qui per me Pescara era un punto d'arrivo e non un punto di partenza come tanti altri giocatori. Io ho sempre sognato di indossare questa maglia da ragazzino, mi piaceva tantissimo e quindi io sono cresciuto così, poi è nata questa cosa, mia moglie di qui, voi sapete tutti, quindi io cerco, ripeto, di dare sempre tutto per la maglia del Pescara e per me come se fosse una seconda casa. Ecco, mi riallaccio alle parole e alla domanda della collega per chiederti come nel giro di un mese e mezzo hai saputo trasformare lo scetticismo e i fischi per quelli che consideravano l'operazione di mercato come un'operazione familiare alla standing ovation di oggi. Ma in tutte le città, in tutte le piazze c'è gente un po' che commenta, che fa questo il calcio, non si può stare lontani dalle critiche, il calciatore è criticato, è elogiato, quindi io devo isolarmi da queste cose, ripeto, ho sempre lavorato con dedizione, con sacrificio e metterò fino all'ultimo giorno il massimo per questa maglia. Oggi Pescara che ha giocato di squadra, l'hai detto anche tu, avete saputo soffrire, stringere i denti, portare a casa questi tre punti, Alessandro, che significano meno tre dal primo posto? Sì, abbiamo dato un bel segnale perché ultimamente gli scontri diretti li abbiamo sempre quasi tutti persi, quindi questo è come se fosse stato uno sconto diretto, perché se l'avessimo perso lo Spezia si metteva, se non sbaglio, è un punto dietro di noi, quindi abbiamo dimostrato solidità, concretezza e, ripeto, in qualche circostanza potevamo anche fare qualche gol in più perché ormai ci avevano lasciato il campo e qualche contropiede forse potevamo sfruttarlo un po' meglio. Ti faccio un'ultima domanda dal punto di vista tattico da parte mia, Alessandro, con questa grande prova che hai offerto oggi, ma le tue caratteristiche le conoscevamo già, quando a Lecce tornerà Gaston Bruggemann, può essere una bella opzione per il tecnico Pillon alzare Gaston più vicino alla porta? Ma queste sono scelte che deve fare il mister. Ma io ti conto un tuo giudizio. Ma si può fare tutto, nel calcio si può fare tutto, i giocatori bravi possono giocare dappertutto, quindi il mister valuterà questa opzione e, ripeto, io devo essere sempre a disposizione, ho preso per questo, devo essere a disposizione della società, del mister, e quando vuole il mister mi mette in campo, altrimenti per me non è un problema, darò sempre il massimo per questi colori. Avevi detto qualche istante fa scontri diretti che non ci avevano detto bene nelle ultime settimane, a proposito di scontri diretti, sabato ci sarà questa gara di Cittadella, è uno scontro diretto importante contro una squadra che è andata a vincere a Brescia ieri? Sì, quello di sabato è un altro scontro diretto, dobbiamo affrontarla come abbiamo affrontato la partita di oggi, facciamoci corti, compatti, in qualche circostanza sicuramente ci sarà da soffrire, ma a noi la sofferenza non ci fa paura, andiamo in campo, affronteremo la gara nel migliore dei modi e cercheremo di dare un'impronta importante anche alla partita di sabato.